Oggi ci troviamo alle sorgenti del Maira, un vero e proprio paradiso terrestre. La cima che faremo è il monte Subeiran che si trova sullo spartiacque tra Italia e Francia, tra valle Maira e valle Ubaiet. Toccheremo molti luoghi di interesse, tra cui il lago Visaisa inizialmente, poi il lago Apsoi presso cui si trova il bivarco Bonelli, successivamente il colle delle Mugne che confina con la Francia e la vetta del Subeiran. Grazie a tutti per aver guardato il video, 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 una bellissima visuale della testata della valle con la rocca provenzale soprastata dal monte Maniglia ancora innevato e dalle cime circostanti ora si prosegue, si prende il vallone superiore che conduce al confine francese il colle delle Muglie Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.